Preoccupazione e polemiche per i casi positivi al Covid-19 che in questi giorni hanno coinvolto alcuni operatori sanitari dell'ospedale La Schiana di Pozzuoli, mandando nel panico i tantissimi ricoverati presenti in questo momento nella struttura poteriana. Con un botte risposta che si è avuto a suon di comunicati stampa tra i vertici dell'ASL e i sindaci di Pozzuoli, Bagoli, Quarto e Monte di Procida, è culminato con l'incontro odierno tra le parti. Ma andiamo con ordine. Alle prime notizie stampa della positività di alcuni operatori sanitari e della chiusura di un intero reparto è stata durissima la reazione del sindaco bagolese della ragione che sui social denunciava il fatto che notizie del genere le avesse apprese dalla stampa senza esserne stato informato dall'ASL. Immediata la replica dell'azienda sanitaria locale Napoli 2 Nord che ieri pomeriggio scriveva «L'ASL Napoli 2 Nord ha rafforzato i controlli sul personale sanitario» avendo appreso che una paziente transitata nel reparto di medicina dell'ospedale di Pozzuoli a seguito dell'affettuazione del tampone è risultata positiva al Covid-19. La direzione dell'ospedale, oltre ad aver praticato 608 esami rapidi già nei giorni scorsi come da protocolli di sicurezza ordinari, sta sottoponendo a tampone tutti i sanitari e pazienti entrati in contatto con la donna risultata poi positiva. Da tale indagine sono stati rilevati tre nuovi casi. Sin cui il comunicato stampa dell'ASL, i cui vertici stamattina hanno incontrato i sindaci dell'area fregrea che hanno avanzato istanze ben precise, richieste accolte dai vertici sanitari dell'ASL e del Santa Maria delle Grazie che si sono attivati ad oras per mettere in pratica le misure concordate in seguito all'isolamento del reparto di medicina, dove ad oggi sono risultati positivi al Covid-19, ben 23 unità appartenenti al personale sanitario e due pazienti, dopo i contagi innescati da una paziente che era stata ricoverata nel reparto nei giorni precedenti. Secondo le disposizioni, si continuerà ad assicurare l'accettazione di pronto soccorso ai pazienti che accederanno con mezzi propri in base alle procedure di prassi. Continuerà il trasporto da altri ospedali dell'ASL per pazienti neochirurgici, previo teleconsulto e per i pazienti cardiologici che necessitano di interventi non differibili ed urgenti e non collocabili presso altre strutture sanitarie. Ci sarà il blocco dei ricoveri programmati e degli interventi non urgenti. Le attività operatorie per i degenti già ricoverati potranno essere eseguite solo per pazienti Covid negativi. Per quanto riguarda le azioni messe in campo per i reparti di medicina, chirurgia e a seguire per tutto l'ospedale, i pazienti Covid negativi e dimissibili saranno dimessi. Quelli negativi e non dimissibili saranno trasferiti presso altri reparti ospedali. Per i pazienti Covid positivi scatterà il trasferimento in area Covid, mentre per i pazienti dimessi dal 31 marzo 2020 sarà attivata sorveglianza sanitaria di concerto con l'epidemiologia ed effettuazione di tampone. Dopo l'intervento di sanificazione radicale ci sarà il ripristino delle attività.